Deron provoca ancora Lae Mourinho, tifosi infuriati. Martin Deron continua a provocare la Roma e i suoi tifosi sui social. Il centrocampista olandese dell'Atalanta. Tifoso del Feyenoord, ha postato una nuova immagine sul suo profilo Twitter dopo la vittoria sul campo del Torino. Un'esultanza di gruppo dopo uno dei due gol realizzati contro il Granata, che sono valsi i tre punti all'Atalanta. Deron ha accompagnato la foto con queste parole, nessun problema, nessun portachiavi da vedere in questa foto. La risposta dei tifosi della Roma al riferimento era all'immagine postata dopo il successo dei Nerazzurri contro la Roma, un portachiave raffigurante la Conference League tenuto con il dito medio. Anche questa foto non è passata inosservata ed ha scatenato la reazione dei tifosi giallorossi, che hanno risposto con numerosi commenti. virgola.